Eccoci, we got some assistance here. Sai cosa però ci sono ancora i ragioni pezzi di grana? Ma perché devi dare, devi aumentare il seno dell'angolo. Per me ci siamo. Il mortaio, questo è un abominio della cucina italiana, scusate italiani ma non abbiamo il mortaio a casa ancora. Ci siamo in camera, calmati. Su chef. Vengo a controllare. Intanto non vedo il martello, non vedo... Il mortaio. Dov'è? Qui dentro il dito metto quello HACCP. Pinoli? Si li ho messi. Grazie adesso qua... Situazione di octopus! And we're preparing for the grilling process. You know what's my tip to make crispy potatoes? Bicarbonato, baking soda. Bicarbonato, that's the magia. This place is steaming hot, we're really cutting weight coming. But the octopus is almost ready. Thanks for being my sous chef. Aspetta ancora un po' di olietto. Una pasta no mi basta! Saluto mai all'altra te? Si si, no. Io sì, sono stato... All'altra, si? Si, ma l'altra. Eh, l'alverone comunque... Attenzione! Noi, l'alverone, non è che te l'asso. All'alter ego intanto o all' quell'altro lì? Al Berfis? Nooo! Eh dai, cato! Cato! Matrix Ritmodromo Italiano, ma voi siete ancora giovani. Franchino, Ricchi Leroy. Emanuele inglese con la gente lì? No, l'inglese è di quelli di Roma. L'inglese è diabolica. Emanuele inglese con Lou Bellucci. Vediamo un altro po' di olietto che fa bene. Non siamo certo noi averlo scritto, una meta analisi del New England Journal of Medicine che dice che consumare acidi grassi monoinsaturi come quelli dell'olio ci aiuta nel prevenire le malattie cardiovascolari. Guarda Camilla, she had one thing to do. The pesto. Look, what is that? The pineapple, she didn't blend. The pesto is wrong. Cazzo, mi ha detto, mi ha detto a frutta, hai ridotto me gli altri. Scherzando, dai facciamo i prati, ragazzi. Penini, ma lei sa quelle regole del buon tono, ha iniziato dalla... Passa dalla... Nooo... No, 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 no problem. C'è Vettori che ha studiato... Sa. Sa che si parte dalla signora. 88 su 100 diplomato. Ragionier Vettori. 88 su 100. Porca troia. Non ha assolutamente tolto la scelta. 88? Non ha mai tolto la scelta. 72 io. 72. In realtà, tu non scegli niente, io. Uros, what school did you do? No, ma io... Non ho capito, non ho capito. E' un po' di tecchi. I went to college, e' un po' di tecchi, e' un po' di tecchi. I believe that. Bro, like, everybody was talking so much shitt before, like, oh, you know... No, 88 su 100. Of what? Final mark. High school, yeah. Nice. Some would think that Marvin wouldn't pass the fourth grade in elementary school, but look at him now. 88 out of 100. Could have been a doctor. D'oro, guarnizione con pomodorino dell'orto. Abbiamo l'orto adesso. No, mica, Giamo. Che bisogna fare in scodega in... In English? Scodega is the part of the fat that you're not supposed to eat. They don't know this. And they sell you the prosciutto crudo with the scodega. In la scodega, bisognerebbe tiragliela. We should throw the scodega right into their face. Here. It's okay. Oh, vero. This is the scodega, ragazzi. Come the cazzo, evidentemente metterla scodega. Emilia Romagna. Nazionale? No, mondiale. Today, a Piadina. Tomorrow, Ferrari. Are you a Ferrari or a Lamborghini person? La Ferrari non puoi battere. Now, look. Don't get the speed, guys. Ooh. Ooh, ooh. 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 You know how me? Oh, he can't handle it. Oh, he can't handle it. What you see?! Eight ounces!? Ah, hold on. Yo! Yo. Yo. Sixteen? It's not good? Aye, look. It's on count. Sixteen. Eight. I fighted those. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 S We're going to be the worst time of it. Thank you. Like what? We're coming, baby. 100%. This is a whole takeover. They're real, you know? They're as real as it yet. They're such a competitive nature and competitive spirit. Like, if you look at the earlier, like in the video, they're like, one more round, you know? And I knew that wasn't going to happen. They care about each other, too. So, like, after they talk about what they could do better, both. And, you know, we're just all about progress as a team here. And I think we have a good environment. And Marvin just gets better and better. I hope, like, my guys don't end up overlapping. If so, I won't be able to be in Paris that long. But I won't miss that fight. Marvin's family to me, you know? Like, I'm not going to miss that fight for anything.